Il trentenne tunisino, accoltellato a morte sabato 16 settembre a Vigonza, è stato ucciso con un tagliaunghie. Un unico fendente alla coscia che gli ha reciso l'artaria femorale lo ha fatto morire, dissanguato. I due tunisini di 43 e 36 anni arrestati a Sanremo dopo essersi costituiti, ieri si sono avvarsi della facoltà di non rispondere davanti al giudice per l'interrogatorio di garanzia. L'unica cosa che hanno detto e ripetuto è stata che non volevano uccidere il loro connazionale. Essendosi costituiti non è stato convalidato il fermo ma il giudice ha disposto la custodia cautelare in carcere per omicidio volontario. I due stranieri si trovano nel carcere di Imperia ma dovrebbero essere trasferiti nei prossimi giorni al due palazzi di Padova. Nessuno dei due ha svelato il movente dell'omicidio, il motivo che ha fatto scatenare la lite sotto gli androni dei palazzi di Via Aldomoro a Vigonza e poi il ferimento mortale. Il 43enne ha precedenti per droga, il 36enne invece era incensurato. Il motivo del litigio potrebbe essere legato ad un debito non onorato ma non ci sono certezze che possa trattarsi di una questione legata agli stupefacenti. Intanto continua anche la caccia ai complici che potrebbero aver agevolato la loro fuga verso la Spagna.